Tra noi cristiani siamo chiamati a liberarci dai pregiudizi verso la fede degli altri, a prendere le distanze da errori, esagerazioni e polemiche, riconoscendo i peccati che avevano portato alla divisione. Così Papa Francesco si è rivolto oggi in Vaticano ai partecipanti cattolici e protestanti del convegno internazionale di studi, Lutero 500 anni dopo, una rilettura della riforma luterana nel suo contesto storico ed ecclesiale, organizzato dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Il pontefice ha sottolineato come questi approfondimenti seri sulla figura di Lutero e la sua critica contro la Chiesa del suo tempo e il papato contribuiscono a superare quel clima di mutua sfiducia e rivalità che per troppo tempo in passato ha caratterizzato i rapporti tra cattolici e protestanti. Dopo 50 anni di dialogo ecumenico tra cattolici e protestanti è possibile compiere una purificazione della memoria che non consiste nel realizzare un'inattuabile correzione di quanto è accaduto 500 anni fa, bensì nel raccontare questa storia in modo diverso, senza più tracce di quel rancore per le ferite subite che deforma la visione che abbiamo gli uni dagli altri. Oggi, come cristiani, siamo tutti chiamati a liberarci da pregiudizi verso la fede che gli altri professano con un accento e un linguaggio diverso, a scambiarci vicendevolmente il perdono per le colpe commesse dai nostri padri e ad invocare insieme da Dio il dono della riconciliazione e dell'unità.